A Polignano l'undicesima edizione di Meraviglioso Modugno, premiato Giuliano Sangiorgi legato a Mr. Volare anche per la cover della stessa Meraviglioso. Le note di Tussina Cosa Grande per me, Cosa sono le nuvole e tanti altri brani di Mr. Volare hanno scandito Meraviglioso Modugno giunto all'undicesimo atto. Il riconoscimento è andato a Giuliano Sangiorgi a cui l'amministrazione di Polignano darà anche la cittadinanza onoraria. Sentiamo Teresa Fabbricatore. Polignano, canta! Il coro del pubblico, la voce potente di Giuliano Sangiorgi, la magia dei trenta elementi dell'orchestra della Mania Grecia aprono l'undicesima edizione di Meraviglioso Modugno. Il leader de Negro Amaro, legato artisticamente a Mr. Volare dopo il successo della reinterpretazione di Meraviglioso, ha ricevuto il premio Modugno 2022, a consegnarlo il nipote del cantautore, riconoscimento che l'artista ha dedicato alla sua band. È stato bellissimo traghettare questa musica e traghettare Domenico Modugno e la sua grande opera attraverso la nostra esperienza, comunque di uomini del sud come lui, quindi sono fiero da Miene, Gramaro e solo all'opera. Tu sei una cosa grande per me, cosa sono le nuvole e naturalmente è meraviglioso, avvolgono Piazza La Selva, quasi 4.000 di spettatori in piedi come nei classici concerti, posti a sedere per le persone disabili. Ad alternarsi sul palco un mix di generazione di artisti, Tosca, Enrico Ruggeri, Dezen Circus, La Municipal, le giovani promesse come San Giovanni e Gaia. Meraviglioso Modugno quest'anno diventa programma televisivo, l'evento verrà trasmesso sabato 3 settembre sul Rai 1 alle 23.30.